Altavilla Vicentina. Un 53enne del luogo è stato arrestato dai carabinieri e condotto al carcere Pio X di Vicenza. L'ordinanza è stata emessa dalla Procura della Repubblica per fatti avvenuti nel settembre 2015 a Brendola. L'uomo è stato ritenuto colpevole dei reati di rapina aggravata con violenza e in debito utilizzo di carte di credito. Dovrà espiare una pena di un anno e 4 mesi di reclusione.